eccoci qui ci siamo buonasera buonasera a tutti eccomi qui come questo e questa diretta perdonate un attimo perché il mio ecco qua perfetto allora sono un po raffreddata quindi perdonate se ogni tanto mi devo soffiare il naso ho un po di tosse visto che abbiamo parlato di varie di iag insomma a proposito mi ricordo che la sfida di questa settimana è proprio quella di postare il vostro ago preferito e così sarebbe carino fare una bella una bella foto di gruppo di tutte di tutti gli aghi di tutti i vostri strumenti di lavoro ciao anna ciao silvana ben arrivate ben arrivate mi fa molto piacere sapere che ci siete allora il tutorial che vi faccio vedere stasera in realtà è molto molto semplice perché noi andremo a realizzare un cuoricino ma non è quello che mi interessa non è farvi capire come realizzare il cuoricino ma come ottenere questo effetto e spero che voi riuscite a vederlo questo effetto peloso ecco qui se io giro il cuoricino da questo lato come questo la lavorazione è molto pulita e non pelosa mentre da quest'altro lato invece il cuoricino è completamente peloso ecco qui ci sono altri cuoricini con lo stesso sistema è abbastanza divertente realizzare questo tipo di lavoro e e soprattutto voi potete fare questa applicazione la potete fare su qualsiasi cosa se vi piace la potete utilizzare sui vestiti su delle toppe o anche per creare delle delle particolari texture se qualcuna di voi magari dipinge con lago per fare questo tipo di effetto quindi peloso noi stasera utilizzeremo questi aghi che sono i famosi aghi reverse ecco qui il reverse per chi probabilmente silvana già lo sa già lo conosce forse ne avrà sentito nominare ne avrà già sentito parlare questo è un ago che ha gli uncini al contrario vediamo se con la videocamera riesco forse non è proprio il massimo però gli uncini che ci che stanno qui praticamente non sono rivolti verso il basso ma sono rivolti verso l'alto questa cosa questo che cosa fa che anziché inserire la lana e portarla verso il basso cucendola la tira fuori quindi in questo modo l'uncino andrà a tirare fuori la lana quindi inserire lago entra prende la lana e porta la fibra verso l'alto e perché dovrebbe un ago fare questa cosa per svariati motivi uno potrebbe essere che nel momento in cui state per agugliare avete agugliato male perché magari c'era un filino nero che ha sconvolto completamente tutto alla vostra il vostro lavoro e quindi dovete levare quel filino anziché fare come fanno molte persone in questo modo rischiando di rompere la punta del lago in realtà si utilizzano appunto i reverse semplicemente inserendo lago nel lavoro e tirando fuori la fibra che dovete eliminare sostituire o cambiare questo è un utilizzo il secondo utilizzo invece è quello di creare appunto degli effetti di questo tipo oggi andremo a realizzare questo però vi volevo far vedere anche questo questo qui è uno dei ricetti che dei corsi di abilmente e questo effetto è ottenuto sempre con lago reverse nel senso che il reverse serve anche per fare delle superfici in generale delle superfici pelose e quindi per realizzare anche il pelo di animali attenzione però quando parliamo di pelo di animali parliamo sempre di questo tipo di pelosità quindi una pelosità abbastanza radente non immaginate di fare con il reverse il pelo lungo che ne so di un persiano perché sarebbe impossibile perché lì la tecnica è completamente diversa ciao patrizia un bacio buonasera a te benvenuta allora così come esistono vari calibri di aghi anche per il reverse esistono vari calibri io qui ne userò due uno grosso e uno più sottile uno è un è il calibro 40 che è questo qua che è quello la più grosso e poi questo qua più sottile che il 30 scusatemi il calibro 32 e questo qua è il calibro 40 che è quello la più sottile perché per chi non lo sapesse più è grande il numero che indica un un ago che più vuol dire che l'ago è sottile quindi più la misura dell'ago in questo numero è alto quindi 40 42 44 46 più vuol dire che l'ago è estremamente sottile più è basso questo numero 36 34 32 più l'ago è grosso ma questa magari sarà una diretta che faremo una prossima volta dove voglio spiegarvi esattamente come si distinguono tutti gli aghi allora noi oggi andremo a fare come vi ho detto questo cuoricino e ci servirà una formina e due tipi di lane di colori contrastanti io ho scelto per voi un colore estremamente chiaro che il bianco e un altro di contrasto che il rosso poi vi servirà un ago grosso un ago sottile appunto un reverse e un multiago e ovviamente delle forbicine queste qui e delle forbicine da ricamo allora la prima cosa che bisogna fare è inserire il primo strato che è quello là che voi volete rendere peloso quindi quando io ho lavorato questo giallo con questo turchese il primo strato che ho messo sotto è stato il giallo la stessa cosa qui nel lavorare il viola e il verde lo strato che ho messo sotto è stato il verde se qualcuno si sta chiedendo ma guarda un po' Anna che c'ha gli aghi dice tanto che gli aghi non si mettono sul tappetino gli aghi si lasciano in posizione verticale così e poi mette gli aghi là sopra in realtà la spiegazione è molto semplice perché questi aghi avendo gli uncini al contrario non si attaccano nel senso che se lo metto qua nel tirare fuori praticamente tira fuori sia la gomma piuma che sia la fibra della tela che protegge il mio tappetino quindi quando utilizzate i reverse io in genere li tengo sempre quando li uso li metto sempre in contenitori come questi così non mi possono cadere allora prendiamo il primo ciuffetto e andiamo a inserirlo nella nostra formina inseriamolo nella nostra formina per prima cosa inizio a lavorare con l'ago grosso perché l'ago grosso mi inizia a compattare subito il lavoro quindi ho bisogno prima di tutto di compattarlo e quindi inizio a lavorare con l'ago grosso aggiungo un pochino di lana dove io sento che manca in questo caso sono nella parte superiore ecco qua una volta che ho compattato il tutto con il mio pennino vado a lavorare ecco qui ciao nicoletta ciao a tutte ciao paola che bello sei riuscita a liberarti dal lavoro che bello che mi fa molto piacere vedervi così tante e numerose allora io normalmente quando faccio lavori con il le formine diciamo che ho il timer mi metto il timer perché il lavoro con le formine deve essere un lavoro piatto e anche perché non c'è da scolpire niente c'è solamente da seguire la formina quindi io in pratica generalmente impiego un paio di minuti e poi a questo punto vado ad aggiungere il secondo strato che sarà quello più scuro per ottenere un effetto simpatico io vi suggerisco di utilizzare dei colori contrastanti qui per esempio ho utilizzato questo questo blu cobalto ed arancione qui invece diciamo che si vede non si vede benissimo però c'è rosso e rosa è già per esempio il contrasto inferiore qui invece voglio fare un contrasto maggiore quindi vado a inserire il mio secondo strato ago grosso per appiattire subito tutto e l'ago grosso mi servirà anche per lavorare tutto il bordino perché lavorando nel bordo andrà a lavorare visto che qua ci sono comunque gli uncini gli uncini andranno comunque a lavorare tutto 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 intorno quindi mi faccio un paio di giri e poi vado col pennino ecco qui adesso se qualcuno di voi vuole mettere un timer un paio di minuti ce la possiamo cavare nel frattempo raccontatemi qualcosa ditemi che cosa avete fatto cosa state facendo cosa cucinerete questa sera e facciamo passare questi minuti insomma ecco qua perché uso il pennino perché il pennino velocizza il lavoro molto semplicemente quindi non perché il pennino ha una qualità migliore perché il pennino ha delle proprietà scultorie magiche no semplicemente perché avendo più aghi io velocizzo il lavoro poi c'è anche un'altra considerazione da fare è che perché a me piace per esempio lavorare col pennino perché montando tutti aghi sottili non lascia moltissimi buchi io non vado molto in profondità perché sto cercando di lavorare diciamo giusto per compattare però siccome sotto c'è uno strato bianco quindi di sicuro adesso che andrò a sollevare la mia formina un po' di rosso sarà passato sotto per questo ho detto prima di mettere lo strato che voi volete fare peloso perché già avrà un po' di lana di contrasto ecco qua credo che i due minuti saranno passati stai facendo dei cuscinetti a forma di cuore imbevuti di olio essenziali e sono ottimi per profumare la macchina ma che meraviglia ma perché non me ne spedisci uno ecco qua giriamo ecco come vedete una parte di rosso è andata da quest'altro lato ora però dobbiamo lavorare questo lato quindi rimettiamo il tutto nella formina Paola ma li stai facendo con l'acqua però e andiamo a lavorare ancora col pennino e invece Patrizia che sta facendo spezzatino e pure madonna mia ma che bontà e poi mentre aspetto che le patate lessino finiscono finisco un uovetto primaverile ma già ci siamo dati alla primavera qua sì sì primavera vieni ricordatevi sempre i due minuti ricordatevi sempre di passare il lago grosso tutto intorno così da agugliare anche il perimetro brava brava tecnica vista ah ma scalzona che sei ecco qui ora tolgo il mio cuoricino che è venuto abbastanza duro lo massaggio per togliere un pochino i buchettini e poi invece mi vado a prendere l'ago più sottile per pulire a mano il bordino tutto tutto il bordino mi raccomando nel lavorare questo laterale non prendete l'ago grosso perché l'ago grosso vi lascia i buchi ecco me ne sto andando da via dalla telecamera sì sì nicoletta per fare un uovo potresti benissimo ricoprire uno di polistirolo tranquillamente ecco qui ora rimassaggio e andiamo a lavorare con il nostro reverse allora prima lavoro con quello là più grosso il che ho detto misura 32 io sono una principiante Anne sto facendo spille con fiori è certo che ci devi far vedere le foto e guarda se fai i fiori secondo me il reverse è perfetto perché ci sono alcuni fiori che hanno una peluria naturale e quindi con questa tecnica riusciresti a fare veramente degli effetti molto molto belli allora prendendo il reverse io cosa faccio inserisco l'ago ecco qua ecco qua non so se si riesce a vedere io faccio un po' di fatica perché l'ago non sta portando giù la lana ma la sta tirando fuori perché prendo quello là prima con la punta più grossa perché mi piace perché per tutto voglio far vedere la differenza l'unica cosa quando lo usate dovete fare attenzione perché vi potete fare male ecco qua allora questo qui è l'effetto che si ottiene con il reverse grosso cacciando praticamente se voi vedete ha cacciato dei punti rossi che è la fibra che sta sotto l'effetto peloso si ottiene con quello più sottile mettiamo le due dita a fermare il lavoro io adesso lavorerò su una piccola parte su una piccola porzione e quindi vi faccio vedere la differenza vedete già la differenza di come l'ago può essere maneggiato questa cosa con l'ago più grosso non l'avrei potuta assolutamente fare ve la faccio rivedere perché fa più resistenza riuscite a vedere come sta diventando la superficie andiamo se riusciamo a mettere a fuoco vedete tutta questa superficie qui prima era liscia qui invece non l'abbiamo ancora fatto aspettate rimetto a fuoco ecco qua qui non l'ho ancora fatto qui ci sono solamente i puntini della lana rossa che è venuta fuori dal lago più grosso qui invece la superficie sta diventando più pelosa e più omogenea allora approfitto per rispondere a una domanda che mi aveva fatto Antonella che purtroppo ha detto che stasera non riusciva a stare in diretta con noi e avrebbe visto la diretta successivamente lei mi ha chiesto voleva sapere come fare per ottenere un effetto meno ispido allora e mi ha chiesto se anziché usare la lana cardata poteva andare meglio usare la lana in tops Antonella no sicuramente il fatto che sia ispido meno dipende dalla lana ma non dipende dal fatto che usi quella in tops anche perché come hai giustamente notato tu la lana in tops non va assolutamente bene per questi tipi io lo dico sempre la lana in tops la si può usare per l'ago con la tecnica d'ago per alcune cose ma per fare lavori di scultura di di ago piatto eccetera eccetera il tops non va bene il tops è perfetto per lavorare con la tecnica d'acqua e anche con con l'ago però per fare accessori per fare piccoli accessori per fare i capelli per fare dei piccoli vestiti e cose varie per fare un lavoro di questo tipo il il tops non va bene e ho preparato un piccolo piccolo campioncino così te lo faccio vedere voi riuscite a vedere ops ho fatto anche l'errore che mi capita sempre riuscite a vedere com'è diventato peloso ora potete pulire un po' ecco qua ovviamente il il grado di pelosità dipende anche dal vostro gusto però vi assicuro che al tatto è estremamente morbido come vi dicevo però non non riuscirete ad ottenere la chioma fluente o lunga di un animale però sicuramente se volete fare che ne so un pulcino questa tecnica renderà benissimo il tutto il piumaggio il sottopelo e vi ho adesso spero che siate riusciti a capire bene perché ho usato due lane diverse perché utilizzare quest'ago è proprio interessante nel momento in cui vengono fuori contrasti di colore perché se avessi usato solo il bianco sarebbe venuta fuori una superficie diciamo vaporosa però avrei creato un effetto meno interessante e ovviamente dipenderà da voi l'uso e l'accostamento dei colori ecco qui questo può essere molto interessante anche per creare appunto dei gioielli guardate dietro e avanti ecco qui non conoscevi questi aghi Paola com'è possibile com'è possibile non li conoscevi ah no sono molto molto interessanti allora io questi qui li ho comprati in Bulgaria in Bulgaria e sono riuscita a trovare però due misure perché anche qui già normalmente l'agoreverse è una cosa che non che non è molto nota e quando viene venduto purtroppo viene venduto di una sola misura come avete visto ci sono a seconda del lavoro che uno deve fare si possono ottenere dei risultati diversi anche qui di lato vi ho lasciato vi avevo lasciato un po' di rosso proprio perché vado a lavorare con reverse e sto lavorando solamente nella parte bianca sempre perché voglio che il rosso resti intatto insomma meno peloso ecco qua e poi me lo vado comunque a sistemare anche fare i capelli è carina in questa ovviamente una capigliatura studiata per un'acconciatura con i capelli corti fondamentalmente quindi ricapitolando potete ottenere degli effetti per fare i fiori se dipingete potete ottenere degli effetti e delle texture 3d potete fare i capelli e il piumaggio di qualche uccello oppure il pelo di qualche animale il sottopelo ecco qua questo è l'effetto che si ottiene quindi qua questo è un effetto in effetti alla fine quello che viene fuori è un melange solo che voi non ottenete solamente la fusione dei due colori non ottenete solamente il color melange che è la fusione del bianco e del rosso ma ottenete l'effetto pelo ecco qua ottenete proprio l'effetto pelo e un'altra cosa ovviamente dipenderà molto dal colore che ci mettete sotto e dalla quantità che c'è sotto io vi ho fatto alcuni esempi e sono questo abbiamo detto il rosso con il bianco questo qua il giallo eccoli qua giallo e questo e questo blu cobalto e poi questo qui che è molto molto bello che mi piace tantissimo è viola e e e e che cosa era turchese no verde 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 questo bellissimo verde ecco qua di cui si è persa completamente traccia il blu e l'arancio l'avete visto il rosso e rosa l'avete visto ora voglio farvi vedere invece questo qui questo qui che ha sotto una un'anima di bianco e poi un leggero strato di marrone allora andiamo a vedere qui l'effetto qui a me piaceva che fosse proprio una peluria molto leggera leggera però andando a lavorare allora se lavorate con il reverse sottile più lavorate e più alla fine il marrone sotto non si vedrà più scomparirà anche qui il gioco è interessante perché sotto c'è il bianco quindi quando andrete a lavorare con un reverse meno che non lo vogliate comprare non lo vogliate tenere perché per perché volete e vabbè stavo pensando un'altra cosa per togliere insomma dei fili che non vi sono piaciuti dico ma a meno che non lo vogliate tenere solo ed esclusivamente per questa cosa io vi consiglio sempre sempre di lavorare con l'ane di contrasto io credo che il lavoro è tutto lì perché non è difficile da usare non è complicato però la bellezza e dell'effetto e del risultato che si ottiene sta tutto nel tipo di colori che voi usate cosi rosa non si vede nulla in che senso non si vede nulla ecco qui più vedete che più lavorate sullo stesso punto e più viene fuori questa peluria quindi ben inteso che noi non stiamo più infiltrando quindi un lavoro di questo tipo un ago un reverse quindi non viene usato per infiltrire ma deve essere usato come finitura è indispensabile dunque prima agugliare bene e infiltrire bene tutta la base altrimenti non si ottiene il risultato desiderato ecco qui la nostra peluria del nostro porcospino del nostro piccolo porcospino ok allora volevo far vedere prima di andar via l'esperimento ad Antonella che vedrà questo video successivamente allora questo qui questo cuore è stato fatto con la lana in tops e prima di tutto come vedi a parità di tempo come vedi questo qui è più morbido e lavorando qui ho già lavorato con il reverse ho già lavorato con il reverse ma la differenza non non si vede cioè nel senso che otterrai comunque una superficie pelosa ma non sarà obbligatoriamente necessariamente più morbida perché anche questo tipo di lavoro avrà reso una superficie comunque non ispida quindi la mia domanda Antonella quando vedrai il video è ma che tipo di lana usi usi una lana cardata a fibra corta o a fibra lunga usi una lana cardata ispida o no quanto è grande la tua lana cardata nel senso quanti micron è la fibra della lana che utilizzi queste sono le domande che ti devi porre magari se vedi il video fammi sapere e ne riparliamo insieme ecco qui l'effetto che è lo stesso comunque effetto della lana cardata questa qua in tops e questa qui e questa qui no cardata ok detta questa cosa io vi saluto se se qualcuna di voi ha delle domande me le può fare se uso l'ago su uno strato infiltrito ad acqua fa effetto caspita se fa effetto anzi il ti dirò di più il li potrai ottenere delle degli effetti molto interessanti soprattutto se la base non è di un unico colore perciò ho detto questo ago non serve per scolpire questo ago serve per ottenere degli effetti molto particolari e per far venire fuori la fibra poi ovviamente Paola se fai qualche esperimento fammelo sapere ok se non ci sono altre domande io vi lascerei a proposito potete rivedere questo per chi si fosse perso il video a parte rivederlo qui ma lo caricherò anche su youtube e su youtube caricherò anche il un altro video con spiegazioni passo passo un po' più breve mi raccomando pubblicate nella sfida in punta di ago i vostri aghi così venerdì nel Felt Free Day Italy vedremo i vostri strumenti un bacio a tutte e buon non mi ricordo chi è che faceva lo spezzatino col purè ma buon appetito a tutte buon appetito un bacio grazie a tutti